Buonasera siamo al Moto Days di fronte allo stand della BMW, siamo in un padiglione che si occupa di ricami appunto, buonasera Buonasera Voi fate ricami? Sì, su tutto, stampe, ricami, su magliette, cappellini, loro sono i titolari Con questa macchina? Sì, questi sono le macchine, lui è il titolare, io diciamo sono una loro collega che faccio immagini Qua il cappello, voi si ritirò, anche questa qui è una scritta fatta da loro, la maglia è stata tagliata È stata tagliata, l'altro pezzo l'ho avuta Senti, quanto sei alto? 1,90 No, senza 1,70, c'è un po' di tacco E è un negozio che si trova a Roma, un centro che si trova solo a Roma? No, lui forse è più, lascio la parola Il titolare, dove vi trovate esattamente? A Monteverde, via di Monteverde 17A e B Quindi siete specializzati sulla... Noi personalizziamo qualsiasi tipo di tessuto, abbigliamento, gadget, stampa, offset digitale, stampa con i plotter della Roland Lavorate su grandi quantità oppure anche un cliente di tutto? Abbracciamo sia il singolo pezzo che le grosse quantità, abbiamo fatto campagne pubblicitarie per poste mobile, per la link Sia in maniera industriale che anche per i singoli... Si chiamano anche i singoli clienti che ci vengono a trovare al negozio Quindi ecco, questa è la macchina che stampa... Questa è la macchina che fa gli striscioni e le stampe, le stampe digitali E queste invece sono le ricamatrici Tipo quella che ha la ragazza Con il cappellino Che si chiama? Gaia Gaia Ok Quindi abbiamo... Zona Monteverde, via... Zona Monteverde Esattamente Monteverde 17A e B Il sito è ricamiroma.it Su Google Siamo i primi Anche online si possono ordinare Anche online si possono ordinare Anche online si può mandare un'email e facciamo spedizione in tutta Italia Non c'è ancora il carrello per acquistare online Ah, però si possono... Si, si spediamo in tutta Italia Ok, abito, ti ringraziamo Buon lavoro, complimenti Ciao Grazie Grazie a lei Ciao Arrivederci